Musica Sequestrata nelle campagne di Ruvo di Puglia o nel Barese una centrale della droga con 900 kg di marijuana finiti sotto sigillo, la polizia arresta due persone sul mercato, lo stupefacente avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Giuseppe Conte, candidato capolista alla Camera anche in Puglia, tra le poche novità delle liste del Movimento 5 Stelle per le politiche dopo le parlamentarie online. A sinistra Loredana Capone accetta la nomination al Senato, mentre la direzione nazionale di Fratelli d'Italia scioglie il Rebus su Raffaele Fitto. Non solo turismo di massa, le nostre telecamere a Monteparano all'interno dell'imbaso del Pappadai, bacino di raccolta delle acque ma anche un vero e proprio lago artificiale a pochi chilometri da Taranto. Buon pomeriggio, benvenuti e bentornati all'appuntamento in diretta con l'informazione. In primo piano la cronaca dal Barese da Ruvo di Puglia nello specifico per un maxi sequestro di quella che appare come una centrale della droga. Vale 900 kg di marijuana finiti sotto sigillo, la polizia arresta due persone. Si tratta di una quantità di stupefacenti che sul mercato avrebbe fruttato circa un milione di euro. I dettagli avrebbero generato oltre un milione di euro di introiti 900 kg di marijuana trovati in una ex stalla individuati e sequestrati dagli agenti della polizia di Stato a Ruvo di Puglia nel Barese. Le due persone colte sul fatto all'interno di questa centrale per il confezionamento sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio, aggravata dall'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono stati bloccati, secondo l'accusa, mentre erano intenti a pesare, stoccare e confezionare interi cartoni pieni di marijuana. Sequestrati anche macchinari per porre le buste di droga sotto vuoto, bilance, cassette, generatori elettrici ed altri strumenti. Nella struttura c'era anche un giaciglio che consentiva ai trafficanti di dormire sul posto e di svolgere anche attività di guardiania. L'ex stalla si trova in zona Ruvo di Puglia, al confine con il territorio di Bitonto, esattamente all'incrocio tra la provinciale 36 e la 151. Gli agenti avrebbero notato un muretto a secco nascosto dalla fitta vegetazione che celava una struttura abbandonata della lunghezza di circa 70 metri. All'interno parte dei 900 kg di marijuana era già stata stoccata e ripartita in busse all'interno di scatoloni, pronta per essere trasportata mentre a terra vi era altra droga che doveva essere ancora lavorata. Ci spostiamo in Salento per una rissa tra bande e rivale alla Baia Verde di Gallipoli. La scorsa notte tragedia sfiorata con un giovanissimo che ha rischiato di essere investito da un'auto. Ancora una rissa l'ennesima Baia Verde di Gallipoli. Nelle scorse ore sul Gran Viale dal Mare, gruppi rivali di turisti sotto i fumi di una notte di follia, se le sondate di santa ragione sfiorando la tragedia, quelle bottiglie di vetro lanciate con violenza o quelle sgommate che hanno sfiorato i corpi dei bersagli rivali, potevano trasformarsi in tragedia. Uno dei giovani coinvolti nella rissa ha rischiato infatti di restare investito da un'auto di grossa cilindrata che si è scagliata a gran velocità e dopo alcune manovre azzardate nel ben mezzo della baraonda, un vero e proprio scenario di far west che si è consumato sotto gli occhi di altri giovani che assistevano in ermi, come se fossero abituati a scene di questo tipo da non fare paura, anzi alcuni si sono presi la briga di immortalarle. Come spesso accade, sono i residenti della zona che, svegliati dagli schiamazzi, corrono ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate le pattuglie di polizia, ma dei balordi, nemmeno l'ombra. Solo i cocci delle bottiglie rotte, il materiale ranciato a mo' di arma per colpirsi a vicenda. E adesso la pagina politica con la marcia di avvicinamento alle urne del 25 settembre. L'ultima novità in ordine di tempo sono gli elenchi, le liste del Movimento 5 Stelle. Esito delle parlamentari online del day after di Ferragosto. La prima novità è la candidatura di Giuseppe Conte anche in Puglia, oltre che in altre regioni, capolista a Foggia. Giuseppe Conte, candidato capolista nel plurinominale alla Camera di Foggia. Quattro regioni e cinque collegi in tutto per il leader del Movimento 5 Stelle. Puglia compresa, appunto. È il primo dato che emerge dai listini pubblicati sul sito dei pentastellati. Poche novità sulle teste di serie da Stefano Patuanelli, ministro per le politiche agricole, a Mario Turco, che proverà a tenersi stretto il ruolo di senatore del fronte ionico. E poche new entry, almeno sulla carta. Alle spalle di Conte c'è l'uscente Carla Giuliano, la prima ad ottenere un seggio se l'ex premier dovesse scegliere un'altra sede di elezione. È solo al terzo posto Giorgio Lovecchio. Capolista a Bari per Montecitorio sarà il senatore uscente Gian Mauro Dell'Olio, dopo il lavoro in Commissione Bilancio ed il voto delle parlamentari online all'indomani del Ferragosto. Dietro di lui la bitontina Francesca Ruggero e soltanto quarta Bruna Pierulli. La castellanese Patti Labbate corre nella circoscrizione Puglia 3 insieme a Junio Valerio Romano, mentre è confermato capolista a Lecce il neocordinatore regionale Leonardo Donno. A completare il listino senatoriale sarebbero l'uscente Gisella Naturale e poi Antonio Trevisi, già consigliere regionale e neoeletto referente per il mezzogiorno nel Consiglio nazionale. Il resto, come negli altri casi, lo faranno le urne. Gli esiti delle parlamentarie nella vicina Basilicata. Vediamo che cosa nascondono quegli elenchi. Dopo il voto online dello scorso 16 agosto, i pentastellati lucani hanno scelto i nomi che concorreranno alle elezioni del 25 settembre. Sarà il senatore uscente Arnaldo Lomuti, già vicepresidente della seconda Commissione Permanente Giustizia, capolista alla Camera nel collegio plurinominale. Per il Senato, invece, sarà il tarantino Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, preferenza questa presa dal listino di Giuseppe Conte. Oltre a Lomuti alla Camera saranno candidati anche Viviana Verri, la ex sindaca di Pisticci, e Deustacchio Ruggeri, mentre al Senato sarà la senatrice uscente Agnese Gallicchio, a ricoprire la seconda postazione disponibile dopo Turco. Soddisfazione per Lomuti, il più votato in Basilicata, che ai nostri microfoni ha espresso la sua gratitudine. Sì, devo dire che sono contentissimo del risultato delle parlamentarie, un riconoscimento che viene dal territorio, dalla comunità degli attivisti dei 5 Stelle della Basilicata. Abbiamo avuto dei numeri importanti, non soltanto per quanto riguarda la mia persona, faccio riferimento anche all'ex sindaco di Pisticci, Viviana Verri, che ha portato a casa un ottimo risultato di consensi all'interno della nostra comunità. Questo ovviamente ci consegna una forte responsabilità, di più di quella che sentiamo nel partecipare a una competizione come quella delle politiche alla Camera, in questo caso per quello che mi riguarda, e quindi richiede sicuramente un maggiore impegno. Nel centro-sinistra pugliese ci sono alcune tessere che sono andate al proprio posto nel corso delle ultime ore. Intanto la Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, che accetta la candidatura, e si tratta di un quarto posto al Senato. E poi Pierluigi Lopalco, ex Assessore alla Salute, che ottiene un seggio, lo fa però da aspirante all'uninominale al Senato in Salento. Loredana Capone scioglie la riserva e accetta la candidatura al quarto posto del Collegio Senatoriale della Puglia. Scioglie la riserva e lo comunica lei stessa attraverso un video inviato via social a tutti i suoi elettori. Allora in questi giorni mi sono chiesta se si ha il coraggio a spingerti a fare la scelta giusta. Però si può anche essere coraggiosi sulla spinta di una sciocca idea. E qualsiasi sciocco può avere coraggio. E allora ho capito che non è il coraggio che ti spinge a fare la cosa giusta, ma l'onore. E se combatti per qualcosa di importante, sicuramente avrai avuto sia l'onore che il coraggio. Una campagna molto dura ci aspetta, una battaglia che ci vede coinvolti come rappresentanti politici, come militanti democratici e progressisti e come cittadini. La mia comunità oggi, la comunità politica, è quella del Partito Democratico. Con i suoi mille difetti e i mille errori. Ma è il mio partito che ho contribuito a fondare e per attuarne i valori dobbiamo fare tante battaglie ancora. E allora vi chiedo, se non io e se non noi, chi? Così, dunque, Loredana Capone intanto a destra, questo è il giorno, della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia che dunque sarà chiamata a fare le limature, si presume le ultime limature, sulle liste. E intanto negli altri fronti di quella metà campo si va profilando il collegio uninominale di Baricità a Pannaggio della Lega, Giro di Campi e poi la Cornice Nazionale. L'incognita di maggior peso è quella di Raffaele Fitto, la cui riserva dovrebbe sciogliersi in questione con la Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, convocata ad hoc per chiudere il gioco di incastri delle liste. Il soggiorno pugliese della leader Giorgia Meloni non porta rumors, visto che la consegna per tutti è quella del silenzio. Le quotazioni in compenso sono in crescita. Se l'europarlamentare di maglie sarà della partita potrebbe ottenere la capolistatura alla Camera nel collegio di Lecce. Il collegio uninominale di quel territorio invece dovrebbe essere a Pannaggio dell'ex consigliere regionale Reo Congeto che si avvia ad un testa a testa con l'altro big del fronte opposto, l'assessore alla formazione di Michele Emiliano Sebastiano Leo. Capolista a Bari per Montecitorio, quota Fratelli d'Italia, dovrebbe essere Marcello Gemmato, mentre il collegio uninominale dovrebbe andare in quota Lega, forse al capogruppo Davide Bellomo, forse al consigliere comunale Fabio Romito, ma resta il nodo dell'uscente Narita Tateo da riconfermare anche perché si tratta di un collegio contendibile. Anche perché dal partito di Matteo Salvini potranno contare sull'uninominale al Senato di Roberto Marti, numero uno regionale, e su quello della Camera nel collegio di Altamura per Rossano Sasso. Forse taglia blinda Mauro Dattis nel listino, ma pure Dario Damiani a Palazzo Madama, e non è escluso che alla lotteria dei collegi prendano parte il regionale Gian Diego Gatta e il sindaco di Apricena Antonio Potenza. In cima alla lista delle variabili in compenso restano i cosiddetti paracadutati dagli altri territori in quota nazionale. E vediamo intanto qual è la cornice nazionale di questi schemi e di questi cambi di campo. L'ombra delle ingerenze russe legge ancora sulla campagna elettorale italiana. Il PD di Arricoletta pressa gli avversari e chiede di intervenire dopo l'appello del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev agli europei a punire i governanti nelle urne. Per il ministro degli esteri Di Maio è inaccettabile che le autorità russe diano indicazioni di voto sulle elezioni politiche italiane. La guerra in Ucraina scatenata da Putin è alla base dell'aumento dei costi dell'energia per le famiglie e le imprese italiane. E il silenzio assordante delle destre su questo argomento in Italia è veramente inquietante. Intanto la campagna elettorale continua nonostante le beghe interne ai partiti. Renzi e Calenda propongono il loro programma elettorale. Il nostro obiettivo è semplice andare avanti con l'agenda Draghi e possibilmente averlo ancora Premier. I temi sono quelli annunciati in questi giorni. Si va dal nucleare all'elezione diretta del Premier, dal taglio del reddito di cittadinanza all'abolizione dell'appello per le sentenze di assoluzione che hanno portato poi alla rottura con il PD e soci. Giorgia Meloni in piena campagna elettorale punta l'attenzione sulla difesa dei confini nazionali, così come Matteo Salvini. Fratelli d'Italia propone sì il blocco navale perché come abbiamo spiegato mille volte si tratta di una missione europea in accordo con gli stati del Nord Africa per fermare insieme a loro la tratta di esseri umani e istituire in territorio africano spot gestiti insieme all'Unione Europea dove vagliare le richieste d'asilo e distinguere chi ha diritto alla protezione internazionale da chi quel diritto non ce l'ha. Vogliamo in pratica ribadire un principio semplice, in Italia si entra solo legalmente. E archiviamo la pagina politica per aprirne un'altra. 3402 pazienti assistiti nelle ultime 24 ore, nuovo picco di accessi nel pronto soccorso della Puglia il 25% sono codici rossi e arancioni, la pressione non accenna a diminuire. 3402 secondo le rilevazioni di Agenas, il 25% dei quali codici rossi e arancioni nuovo record di pazienti assistiti nelle scorse ore nel pronto soccorso della Puglia a quanto pare la pressione non accenna a diminuire in quanto è stato superato anche il picco del 9 agosto scorso quando furono 3.300 le persone assistite. Tra il 14 e il 16 agosto c'è stata una leggera flessione subito riguadagnata invece nella settimana postferagostana con una nuova impennata. L'alto afflusso sta mettendo in difficoltà le strutture sanitarie già in crisi per la carenza di personale per la mancanza di sangue, nelle scorse ore infatti sono arrivati da più associazioni gli appelli di invito alla donazione, la carenza infatti potrebbe compromettere numerosi interventi chirurgici già programmati. Già tra fine luglio e l'inizio di agosto la pressione sulle strutture di primo intervento è stata molto elevata la media infatti si è mantenuta tra i 2.500 e i 3.100 ingressi al giorno in tutta la regione dopo quello del 9 agosto il record di accessi risale al 26 luglio con 3.163 pazienti visitati sempre secondo le rilevazioni dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e sempre in virtù delle carenze di personale. Secondo le associazioni di categoria infatti negli ospedali della Puglia mancherebbero circa 2.000 medici, 210 medici per il 118 e 1.500 2.000 unità negli ospedali. In Puglia restano però le difficoltà a reperire nuovo personale da assegnare alle asle con i giovani medici attratti dalle offerte di lavoro provenienti da strutture private o da altre regioni. Solo il 25% dei dottori ospedalieri pugliesi potendo scegliere continuerebbe infatti a lavorare in un ospedale pubblico. Al fronte Ionico ferie che sarebbero state tramutate in cassa integrazione elevata di scudi dei sindacati dei metalmeccanici nei confronti di Acciaierie Italia. Ferie che sarebbero state tramutate in cassa integrazione elevata di scudi dei sindacati metalmeccanici verso Acciaierie d'Italia e Silva dopo le proteste dei giorni scorsi a seguito della scoperta fatta dai lavoratori sui cedolini paga di luglio hanno notato il cambio dei periodi di ferie in cassa. La Wilm si è recata con Gennaro Oliva, coordinatore di fabbrica dalle autorità competenti per completare la denuncia contro Acciaierie d'Italia. La Wilm annuncia che c'è già stato un provvedimento urgente è la successiva apertura di un'indagine. Il sindacalista aggiunge che il dossier è stato integrato riportando puntualmente i problemi serissimi e le azioni unilaterali che gravano sui lavoratori. Davide Sperti, segretario Wilm, afferma che la denuncia è stata determinante per l'apertura dell'indagine. La FIOM e CGL dichiarano Giuseppe Romano e Francesco Brigati, rispettivamente segretario e coordinatore di fabbrica, ha invece presentato un nuovo esposto al ministro del lavoro Andrea Orlando e all'Ispettorato del lavoro, ma anche all'Inps di Taranto. Avendo a disposizione le buste paga dei lavoratori a cui sono stati sostituiti i giorni di ferie, impermessi ex legge 104 e donazione sangue in cassa integrazione, si richiede un'audizione per fornire ulteriori dettagli. Secondo la FIOM, la trasformazione dei giorni di ferie in cassa integrazione ai lavoratori, peraltro avvenuto, secondo i sindacati in maniera unilaterale, non trova alcuna spiegazione logica, anche con particolare riferimento al recupero psicofisico, che non può essere deciso unicamente dall'azienda e non garantisce di fatto quanto previsto dalle normative vigenti. Ancora economia, ma da un altro punto di vista, quello dei comuni e di un'ordinanza a firmarla il sindaco di Potenza, il leghista Mario Guarente, limita il consumo di alcolici nel centro storico del capoluogo lucano. L'incremento dell'utenza durante la stagione estiva è lo smodato ed indiscriminato consumo di bevande alcoliche nel centro storico cittadino, che, come riportato nella nuova ordinanza, arreca sovente turbamento dell'ordine pubblico, ha obbligato il primo cittadino del capoluogo lucano a disporre nuove regole più restrittive sullo consumo di alcol nel centro storico di Potenza. Questo anche per limitare quanto accade nei vicoli di via Pretoria, episodi di liti e schiamazzi determinati dall'eccessivo consumo di alcol, seppur limitato, come è precisato, dopo la disposizione della precedente ordinanza. La nuova, disposta anche a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi ieri negli uffici della Prefettura di Potenza, prevede che fino al 30 settembre 2022, nel centro storico cittadino, dalle ore 20.30 alle ore 3, è fatto di vieto di consumare sul posto bevante alcoliche di qualsiasi gradazione e che le stesse potranno essere consumate solo negli esercizi commerciali autorizzati. Il Sindaco ordina inoltre che dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2022 nel centro storico cittadino è fatto di vieto di circolare con alcolici al seguito, di stazionare e consumare alcolici e alimenti nei vicoli, fatti salvi gli spazi regolarmente autorizzati, di somministrare bevande con contenitori in vetro, compreso il caso di vendita a mezzo distributori automatici. Il mancato rispetto delle prescrizioni prevedrà sanzioni penali ed amministrative e multe da 25 fino a 500 euro. Si sono intrufolati nel centro anziani, hanno devastato tutto quello che c'era all'interno e caccia i vandali in azione ad Erchie. Hanno forzato la porta d'ingresso di notte, come i ratti, sono scivolati all'interno della struttura, distruggendo tutto e probabilmente portando via anche qualcosa. Quello che non serviva, invece, ha fatto una brutta fine. Tre impianti danneggiati, cavi strappati, attrezzatura scaraventata a terra, porte di velte. Hanno devastato davvero tutto i vandali in azione nella notte tra il 15 e il 16 agosto in via della Libertà ad Erchie, in pieno centro cittadino. Libertà, ma quale libertà? Persino la sedia elettrica posta l'ingresso, utile per favorire l'accesso alla struttura, a chi ha problemi di mobilità, è stata danneggiata, forse in maniera irreparabile. Lo stesso gruppo avrebbe anche provato a forzare, senza successo, la porta d'accesso della vicina aula a consigliare vandali o forse di più, su cui ora si concentrano le attenzioni delle forze dell'ordine e degli amministratori locali. Vandali è una parola che non si addice. Sono persone che distruggono il patrimonio loro stesse, perché il comune è di tutti, gli immobili sono di tutto Erchie, non dell'amministrazione o di un pinco pallino qualsiasi. Non potevano fare di più, hanno rotto di più e di tutto. Tutto distrutto, tutto devastato, da chi di notte, come i ladri, come i vigliacchi, ha colpito un bene pubblico, per quanto da tempo chiuso e inutilizzato. Già, che gran peccato, per quel centro di Via della Libertà ad Erchie. Rifiuti abbandonati ai margini delle strade, provinciale in Salento e anche in quelle comunali, un biglietto da visita in pieno agosto, che non, certamente, raccontano i cittadini, non il migliore per i turisti. I comuni della provincia di Lecce in totale hanno speso oltre 160 milioni di euro per rimuovere i rifiuti dalle strade, sia quelle comunali che quelle adiacenti alle provinciali, ma la situazione non sembra essere delle migliori. Questo è il nostro giro in Salento. Disagio, degrado ed immondizia. Si presenta così la situazione ai margini delle carreggiate, delle provinciali leccesi a ridosso dei comuni, cumuli di rifiuti che aumentano il disagio, creando non solo un danno all'ambiente, aumentando il cattivo odore, ma soprattutto aumentano la possibilità dello sviluppo di incendi che potrebbero da lì a poco attaccare i pochi oramai ulivi rimasti patrimonio da tutelare. Stringe le spalle la provincia di Lecce, l'ente che non riesce a gestire questo fenomeno, ma stringerle. Sono soprattutto i cittadini che ne pagano le conseguenze. Sono loro a segnalare agli uffici competenti, ai giornali, che molto spesso i rifiuti cadono anche dai mezzi della ditta di gestione dei rifiuti e si posano in ermi sui cigli delle strade. Nei comuni la situazione non è delle migliori. Dallo studio condotto da Open Police emerge anche il dato relativo alla spesa in relazione al numero di abitanti, cioè l'importo pro capite che ciascun comune ha investito. In testa all'elenco, in questo caso, c'è Porto Cesario, con 589 euro per residente, seguito da Castrì di Lecce, con 447 euro, e da Otranto 407 euro. Seguono Castro, Gallipoli, Melendugno e Dugento. Nonostante queste somme, restano le situazioni di abbandono, degrado e disagio anche nei centri urbani. A proposito di biglietti da visita per il turismo, adesso vi portiamo a pochi chilometri da Taranto, nello specifico all'interno dell'invaso del Pappadai. Si tratta di un vero e proprio lago artificiale a pochi chilometri dal capoluogo ionico. Un sito di straordinaria importanza, non solo dal punto di vista naturalistico, con la presenza di volatili migratori che hanno contribuito a modificarne il microclima. Un luogo storico, in cui la masseria San Demetrio si affaccia, quasi come se ne ammirasse l'orizzonte. Il lago di Pappadai è una straordinaria risorsa situata a pochi chilometri da Taranto. Costeggia diversi comuni della provincia ionica, ma è poco noto. Eppure c'è chi lo ha notato e rivolge un appello alle istituzioni affinché venga valorizzato. Perché il presidente di una Proloco ha prestato particolare attenzione a questo sito? Diciamo che io in qualità di presidente, ma di un'associazione come la Proloco che ha a cuore non solo questo sito, ma tutto ciò che riguarda il nostro patrimonio storico, naturalistico e architettonico. Quindi nel corso dell'anno siamo costantemente impegnati per valorizzare queste risorse del nostro territorio. Le associazioni turistiche Proloco, dei paesi che abbracciano un po' questo sito, in che modo potrebbero utilizzarlo? Sicuramente tra di noi potremmo fare rete. Già in passato come Proloco abbiamo realizzato delle passeggiate naturalistiche coinvolgendo delle associazioni anche del Tarantino. Torna in maniera diffusa la festa di Santo Ronzo a Lecce e questa mattina il via con la conferenza stampa. I dettagli. Ritorna dopo due anni di edizioni ridotte dovute alla pandemia, la festa dei Santi Patroni Oronzo Giusto e Fortunato in programma dal 23 al 26 agosto in maniera diffusa in città. L'amministrazione comunale, l'Arcidioce e Sidi Lecce hanno lavorato per il ritorno della festa patronale secondo la tradizione con i vari momenti dedicati ai riti religiosi e alle celebrazioni civili. Oltre alla processione con cui ritornano la Fiera Mercato, il Luna Park e i concerti di piazza, l'anteprima della Fiera Natalizia di Santa Lucia in Vetri in Chiese, gli appuntamenti musicali in collaborazione con il Conservatorio Tito Schipa e Tiatini, il Teatro Invernacolo e il Mercatino dei Sapori alla Villa Comunale con la novità di un vero festival pirotecnico Leccese a conclusione della tre giorni e la conferma grande richiesta della banda itinerante nei quartieri. Mercoledì 24 agosto alle 19 un momento di preghiera comunitaria in piazza Duomo e poi due gli appuntamenti giovedì 25 vigilia della festa alle 10 al Santuardo di Santo Ronzo fuori le mura Seccia presiderà la Santa Messa al termine della quale ci sarà la chiusura della Porta Santa aperta l'estate scorsa con l'inizio dell'anno giubiliare mentre alle 19 nella chiesa cattedrale sarà lo stesso arcivescovo di Lecce a celebrare l'ecoristia con il dono dell'olio che alimenta per tutto l'anno la lampada votiva dell'altare del Santo. venerdì 26 agosto inoltre alle 19 in piazza Duomo il solenne pontificale con il rito di chiusura della Porta Santa della Cattedrale e a mezzanotte la festa chiuderà con i classici fuochi. La cultura Valentina Petrini ospite a Taranto della rassegna il segnalibro. Si è parlato di ambiente nell'ambito della rassegna culturale l'angolo della conversazione allo yachting club di San Vito ospite la giornalista Valentina Petrini di origini tarantine ma trapiantata da tempo a Roma è anche una tra le figure di spicco dell'1 maggio tarantino ha presentato il suo ultimo libro Il cielo oltre le polveri storie, tragedie e menzogne sull'Ilva Solferino editore vincitore dell'undicesima edizione del premio letterario Cacuri per la sezione saggistica un mix di inchieste e riflessioni per spiegare una storia troppo complessa l'Ilva è l'unica prospettiva di lavoro e quindi di vita è un saggio che però non parla solo ed esclusivamente a Taranto ma parla a tutta l'Italia che ha come diciamo obiettivo principale in questo momento storico quello di capire come si porta a casa la transizione ecologica questo è un libro che parla di diseguaglianze sociali parla di disparità enormi tra persone che dovrebbero invece avere gli stessi diritti Valentina Petrini cresciuta a Taranto in un quartiere operaio ridosso dello stabilimento torna sui luoghi della sua infanzia per fare conti con il grande racconto nero dell'Ilva ci fermiamo vi ricordiamo alle 21 la puntata del punto speciale politica tra gli ospiti Luigi Brugnaro Giovanni Totti Maurizio Lupi leader della formazione noi moderati e rispettivamente di Coraggio Italia Italia al centro e noi con l'Italia dopo di noi invece c'è Antonella Fazio con la pagina dedicata a Bari Battefoggio intanto grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti